Gli USA e il Regno Unito sosterranno il governo di unità nazionale afgano anche dopo il ritiro delle truppe NATO. Lo hanno assicurato alla Conferenza di Londra, che ha riunito i rappresentanti di 60 nazioni per discutere del futuro del paese, alla fine di una campagna durata 13 anni contro i talebani. Il neopresidente Ashraf Kani. Siamo soddisfatti di essere nella transizione dai combattimenti alla fine dei combattimenti, la garanzia che la formazione, le consulenze e l'assistenza continueranno sono come un voto di fiducia. Vi ringrazio ancora per il vostro impegno finanziario, per la nostra e la vostra sicurezza. Londra si è impegnata a versare 225 milioni di euro all'anno fino al 2017. Quanto alle truppe resteranno nel paese 8.000 soldati americani e 4.000 militari internazionali.